Ciao e benvenuto. In questa lezione andremo a conoscere quello che io chiamo il rullo a sette stretto. Iniziamo a prendere in considerazione una sestina di sedicesimi ed un quarto. Proviamo a suonarlo ora utilizzando i colpi singoli alternati, il primo partendo di destra e il secondo partendo di sinistra. Naturalmente potremo suonarlo anche a colpi doppi, quindi la sestina verrà eseguita a colpi doppi. Questa volta partendo di destra arriveremo di sinistra, partendo di sinistra arriveremo di destra. Iniziamo con la destra. One, two, three, four. Partendo di sinistra. One, two, three, four. One, two, three, four. Ora proveremo a raddoppiare la figurazione ritmica, quindi dovremo suonare i nostri sei colpi, questa volta all'interno di un ottavo. Quindi pensiamo di suddividere in due movimenti la pulsazione principale, quindi il quarto. Avremo quindi un battere ed un levare. In battere suoneremo sei colpi, sul levare suoneremo l'arrivo del rullo. Quindi avremo. Proviamo, colpi singoli alternati. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, colpi doppi partendo di destra. 1, 2, 3, 4, partendo di sinistra. Consiglio di studiare le figurazioni ritmiche viste precedentemente anche ribaltate al contrario. cioè nel primo caso avremo un quarto ed una sestina di sedicesimi, nel secondo caso avremo un ottavo in battere e sei colpi in levare. Ora andremo a vedere un esercizio che ci darà la possibilità di mischiare gli argomenti visti precedentemente. Iniziamo a pensare al rullo a sette applicato agli ottavi, quindi avremo sei colpi in battere ed uno in levare. L'esercizio consiste nel suonare una misura a colpi singoli ed una misura a colpi doppi. Durante l'esecuzione dei colpi doppi i rulli a sette, per esempio il primo finirà di sinistra, il secondo ripartirà ancora di sinistra. Questo ci permetterà di mettere insieme tutti gli sticky. Proviamo lentamente bettanti. Tiki 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 ta, tiki 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 ta, tiki tiki ta, tiki tiki ta, tiki tiki ta. ora andremo a suonare lo stesso esercizio girato al contrario all'inizio della seconda misura dovremo suonare l'accento di destra e poi ripartire con i doppi di destra questo ci permetterà di avere l'alternanza tra mano destra e mano sinistra proviamo pa tiki 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 ta tiki tiki ta tiki tiki ta one Spero come sempre che questa lezione sia stata utile e buono studio. A presto, ciao!